Dico solo una cosa personale, siccome qualcuno ha detto ma tu non hai ancora parlato, non si è capito e tutto il resto. Ora, la cosa personale che io dico è, per me la CGL, diciamo così, mi ha insegnato a comportarmi in un certo modo. E quindi nella mia esperienza sindacale, io non mi sono mai candidato a nulla. Perché vengo, lo dico con umiltà, da quella scuola in cui mi hanno insegnato che devi essere al servizio dell'organizzazione. Ma non che non contano, non voglio neanche fare quello che gli interessa niente, la situazione, non prendiamoci in giro. Ma lo dico da questo punto di vista, perché questo secondo me è un punto, almeno per quello che mi riguarda preciso. E quando la segretaria generale, nella segreteria, ha informato di questa idea, di questa proposta, io ho accettato e mi sono messo a disposizione di questa proposta. Punto. Lo dico anche qui con onestà, l'ho detto anche lei, non vi nascondo. Certo, uno i primi cinque minuti è felice e contento. Io quella notte lì dopo non ho dormito, no?